buonasera amici di movida siamo qui a uc cinema per presentarvi il primo film di george leonard via le immagini ciao siamo qui con i nostri amici george e tutto il resto del cast un bacio grandissimo a tutti gli amici di movida television buonasera a tutti siamo a movida television ovviamente io sono leonard george come vedete siamo alla luci cinema questa sera c'è la presentazione ufficiale della prima del film fallo per papà non fallo è fallo per papà è proprio il film è tutto unito e tra un pochino vi presento tutti uno per uno gli attori seguitemi siamo qui insieme al mio amico ciro ceruti a noi lani vabbè comunque guarda già da questo piccolo sketch potete già capire com'è il film che ovviamente non vi racconto perché se voi non entrate noi non accattiamo i sordi giusto no ma loro se non entrano passano un brutto 2013 ma veramente seria cioè il nostro film è poco un portafortuna e qui a napoli sapete bene la fortuna quanto vale ragazzi che vi dico vi diamo un benvenuto a questa prima lui ovviamente è attore regista produttore anche produttore no soldi non ne ho regista produttore protagonista come protagonista vi presento il nuovo schicchi della situazione del 2013 perché ovviamente come se come avrete saputo è diventato il nuovo proprietario di you porn assolutamente sì assolutamente tutto ciò che ho detto mi assumono le mie responsabilità e tutte le querele scherzo vi presento non siamo all'aeroporto ma siamo invece anche molto bello invece siamo alla prima del film fallo per papà con il mio amico leopoldo che è il fulcro del film perché è il regista si ho girato un po questo film insieme a degli ottimi attori è stato molto piacevole con uno dei più grandi attori italiani e no anche non italiano perché europeo ciao giacomo ciao che devo dire mi ha detto questa cosa è vera questa cosa è vera questa cosa ma guarda tu mi ha io visto che ti hanno messo anche sul c'è sulla locandina e che il film di sorrentino mi ha dato respiro internazionale meno male insomma dopo il 55esimo film è diventato un film internazionale scusa 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 quanti 58 sono complimenti è un onore più che altro intervistati io mi auguro ancora di fare il 59esimo il 60esimo il 61esimo insomma ma direi che tu potrei arrivare a 70 una domanda bruciapelo invece più bella qual è la posizione del camasutra più bella che ti piace tutte grazie io questo rappresento il film fallo per papà lui è qui invece per presentare il primo primo di giugno venerdì prima di giugno abbiamo scherzato fino adesso grande big show ovviamente ciro leonard in piscina perché alle 6 di mattina chissà quello che succederà immagino vi lascio già immaginare lei il vestito rosso che fine farà quindi ragazzi non mancate e anche perché chi manca avrà una bella sfiga nel tutto nel 2013 per tutta l'estate naturalmente lo sai no fallo per papà giorgio splash ciao 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 ciao